Noi siamo i ragazzi di Enaipcoma, abbiamo creato questo progetto dal nome Vision Air Tour. Abbiamo riscontrato la necessità di creare un bisogno per il turista. È un qualcosa di innovativo e virtuale che unisca il gioco e l'educazione. Perché questi nostri dispositivi sono innovativi? Perché non sono i tuoi occhiali virtuali tradizionali, quelli pesanti in cui inserisci lo smartphone. Infatti i nostri occhiali sono innovativi perché sono sottili e leggeri, come un normale paio di occhiali da sole. Hanno la risoluzione alta, la visione è immersiva, immerge completamente l'utente, cioè il turista. Il microfono e il bluetooth sono integrati all'interno del dispositivo, così può essere collegato anche sul nostro sito web. Qual è il contenuto essenziale di questi nostri dispositivi? Sono gli itinerari vivi. Attraverso i nostri percorsi introduciamo infatti il mondo di turismo virtuale, ma allo stesso tempo il gaming. Quindi visiteremo il territorio lariano nel passato, nel presente e anche nel futuro. E poi non è la tua guida tradizionale a guidarti, ma sono dei personaggi finti oppure reali che sono esistiti nella storia a guidare il turista. Il nostro target è veramente ampio e passa dal classico turista della domenica, che potresti essere proprio tu, al turista straniero. La nostra piattaforma online è anche per chi, per un problema o per l'altro, non si può spostare da casa e quindi può vivere questa magnifica esperienza così innovativa e originale anche sul divano di casa. Cos'altro dire? C'è di più divertente di farsi guidare direttamente da un genio come Leonardo o dai promessi spoli di Manziana Memoria? Turismo in ogni luogo, in ogni tempo, in ogni dove. Turismo per tutti! Con un giudizio complessivo, come dice, la squadra ha presentato in maniera brillante e non convenzionale un prodotto che risponde al bisogno di un turismo innovativo. Quindi la squadra è Fisio Turro Pianetto! La squadra è Fisio Turro Pianetto!